Ci sei? Al Salone del Libro siamo insieme a Francesco Pannofino. Noi abbiamo avuto il privilegio di intervistare Peppe Fiore di Wild Side due giorni fa. Lui non si è sbilanciato molto su Boris per Natale. Tu puoi fare un po' di più? Beh sì, stiamo per cominciare a girare il film che dovrebbe uscire un po' prima di Natale. Da quello che dicono dovrebbe uscire il 20 novembre. Però lo dobbiamo ancora girare, quindi c'è tempo. Il tema della fiera è la memoria. Il fatto che tu presti la voce a tanti attori famosi ti fa in qualche modo poi rimanere molto nella memoria del pubblico. Rimani più tu come voce o più l'attore come faccia? Rimane più l'attore, diciamo. Chi fa il doppiaggio è un mestiere di servizio, serve per tradurre. Però per fortuna faccio anche l'attore, quindi anche io rimango nella memoria. Grazie mille. Posso chiederti, il cameraman si chiama Carlo. Puoi chiudere l'intervista come fosse René Ferretti e dirgli qualcosa come solo tu puoi fare? Carlo, mi raccomando, a cazzo di cane. Dai, dai, dai. Grazie mille.